Gemma Gagani potrebbe presto lasciare uomini e donne. Il motivo? Gemma Gagani potrebbe presto lasciare uomini e donne. Il motivo? Le continue discussioni con Tina Cipollari hanno stancato i telespettatori. Gemma Gagani è una delle dame più amate del trono over di Maria De Filippi per la sua dolcezza. Nelle ultime settimana, la protagonista indiscussa di uomini e donne ha fatto molto parlare di sé, sembra proprio che la dama di Tornino si sia riavvicinata al Cavaliere Rocco. Poche settimane fa, Gemma ha deciso di interrompere la sua frequentazione con Paolo in quanto non è scattata la scintilla. Secondo recenti rumors, Gemma potrebbe presto lasciare il dating show di Canale 5. Il motivo? Sembra che il motivo possa nascondersi dietro alle continue discussioni con lopinionista, Tina Cipollari. . La notizia sul settimanale nuovo. Secondo quanto riportato dal settimanale nuovo, in futuro la dama di Torino potrebbe in futuro lasciare il programma di Canale 5. Il motivo? Gemma è sempre al centro di numerose polemiche, ultimamente la bionda opinionista ha affermato di essere in possesso di prove che metterebbero in discussione il percorso della Galgani nel programma di Maria De Filippi. Sul settimanale nuovo si legge. Nei sogni dellopinionista di Uomini e donne adesso c'è soltanto un'immagine, Gemma Galgani costretta ad abbandonare il programma perché smascherata dalla redazione. Le continue discussioni tra Gemma e Tina avrebbero dunque stancato i telespettatori e sul settimanale si legge. Tra Tina e Gemma non corre buon sangue da diversi anni. Ma adesso si è arrivati all'esasperazione e Maria De Filippi potrebbe decidere di dare alla Cipollari ciò che desidera da tempo. Ed ancora. Perché la moglie di Maurizio Costanzo non ne può più di chi sfrutta la sua trasmissione solo per fare serate, senza pensare ad innamorarsi sul serio. Gemma Galgani e il Natale senza Rocco. La dama del parterre del trono over ha trascorso il Natale senza il suo cavaliere e la sua amata famiglia in quanto impegnata al teatro. Molto probabilmente Gemma Galgani vedrà il Rocco Fredella direttamente negli studi del programma. Il programma di Maria De Filippi andrà in onda regolarmente a partire dal gennaio 2019. Il programma di Maria De Filippi andrà in onda regolarmente a partire dal gennaio 2019.